Ciao amici di Italiano Games, buongiorno. Giovedì 8 agosto, non sono ancora aperti i server di Football 2024, ma ci sono molte informazioni importanti per i Football 2024 e per i Football 4.0.0. Di cosa sto parlando? Una cosa per volta. Allora, questa è la presentazione della nuova season, l'ultima di Football 2024. E cosa significano quelle parole inglesi? L'ho tradotto in automatico da Google Translation, l'alzata della tenda, ovvero il sipario, si alza il sipario su una nuova stagione calcistica. Pensavo che fosse la fine di quest'ultima, invece no. È come dire una sorta di pre-season, appunto, al solito, in questo caso senza chiamarla stagione 0, la chiamano stagione 8 di Football 2024, e per me è giusto fare così. Quindi, con, mi sembra, tutte le maglie aggiornate delle cinque squadre partner principali di football, come dire, si dice, su il sipario si inizia una nuova stagione calcistica, seppur sui Football 2024. Quindi, stagione 8, l'alzata della tenda su il sipario, chiamatela come volete, vedete questo sipario che appunto nasconde le cinque squadre partner, con un fotomontaggio, a dirla tutta, non particolarmente straordinario. E però, qui c'è la notizia ancora più importante. A metà settembre rilasceremo un aggiornamento per il football 2024, metà settembre, quindi, tra il 10 e il 20 di settembre, più o meno. Dopo l'aggiornamento, il nome del gioco, tenetevi, diventerà eFootball V4.0.0. Ragazzi, io non so, veramente, a chi hanno chiesto, solitamente nel marketing si fanno dei test per vedere se alcune idee sono buone o sono negative. A posto di chiamarlo eFootball 2025, chiamarlo eFootball V4.0.0, io davvero faccio fatica a credere che qualcuno abbia detto, sì, che bella idea, mi raccomando. Allora chiamalo solo eFootball. eFootball V4.0.0. Vabbè. eFootball V4.0.0 includono aggiornamenti dati e rispecchiare promozioni, retrogestioni, campionati nazionali, trasferimenti dei giocatori, trasferimenti di elementi di gioco e altri dati. Seguenti elementi di gioco verranno trasferiti, così almeno anche qui vi mettete tranquilli. Monete... Tutti i devices, quindi anche dovrebbero arrivare su PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Mobile. monete i football punti football gp se avete più di 999 milioni 990 mila 999 gp non ve li trasferisce quindi non fate gli ingordi se avete più di un miliardo utilizzateli perché ve li toghi contratto mirato accordo al buio programma allenamento programma aggiuntabilità programma aggiunta posizione emblemi progressi gli emblemi divise aggiuntive ticket giocatori standard set avatar acquistati progressi gli obiettivi contenuto della posta in arrivo nome utente paese regioni data di nascita bonus di accesso i dati di trasferimento sottolinecati possono variare secondo i contenuti disponibili in momento dell'aggiornamento squadra base avatar obiettivi la valutazione cortesia verrà impostata su al momento dell'aggiornamento quindi un ragazzo mi chiedeva qualche giorno fa come posso tornare eccetera devi aspettare metà settembre col nuovo gioco tornerai ad a la schermata del saldo era trasferita così com'è tuttavia alcuni nomi potrebbero non essere visualizzati a seconda le licenze dei contenuti disponibili dopo l'aggiornamento la cronologia non verrà trasferita cioè le partite giocate eccetera eccetera giocatori allenatori a caso modifica le licenze contenuti disponibili alcuni giocatori allenatori potrebbero essere più disponibili giocatori allenatori indisponibili non potranno partecipare alle partite ma svincolandoli potrei comunque ottenere loro gp oggetti ragazzi questo è già successo con i football 2023 la fif pro è lì e contiene il 95 96 97 per cento i giocatori i problemi sono magari con qualche giocatore brasiliano dove lì i diritti vengono dati caso singolarmente per singolarmente poi speriamo che non perda nessuna leggenda ma l'anno scorso non ci sono stati particolari problemi comunque lo stato di giocatore e gli allenatori che diventeranno disponibili sarà modificato durante l'aggiornamento 4.2.0 previsto per l'inverno del 2024 e qui già konami ci fa fare un salto in avanti all'inverno dopo non riparlo di meteo e di astronomia comunque previsto per l'inverno e di questo aggiornamento che dovrebbe essere piuttosto importante perché mettono questo 2 dietro il 4 però io ragazzi non vi dico modalità contenuti eccetera sto cercando di evitare il più possibile perché abbiamo visto come è andata gli altri anni potrei controllare quali giocatori allenatori diventeranno indisponibili direttamente all'interno il gioco dopo la pubblicazione l'aggiornamento 4.0.0 i giocatori interessati saranno solo quelli tipo standard ottenuti prima l'aggiornamento 4.0.0 tutti gli altri giocatori rimarranno a loro disposizione quindi i giocatori non standard ci dicono ci dice konami che non avremo problemi quindi questa cosa non ci dovremo interessare più di tanto campionato quello offline il progresso i punti my league verranno risettati dopo l'aggiornamento 4.0.0 questo è interessante rinnovo il contratto 60 giorni rinnovo il contratto 10 giorni rinnovo il contratto 60 giorni ogni rinnovo il contratto in tuo possesso sapete i contratti scompariranno verrà convertito in un accordo al buio questo accordo al buio ti permetterà di ingaggiare casualmente un giocatore da una lista contenente 100 giocatori epici e in evidenza disponibili precedentemente mica male vediamo un po quello che sarà rinnovo il contratto 10 giorni c'era un accordo al buio per ogni sei oggetti rinnovo il contratto in tuo possesso se possiedi un numero oggetti rinnovo il contratto insufficiente riceverai comunque un accordo al buio questa è una cosa che come dire un pochino ci ci esalta tra virgolette perché ci regaleranno vari giocatori epici da così dicono una lista contenente 100 giocatori epici molto molto interessante sarà interessante vedere altra notizia molto importante manutazione su larga scala per aggiornare le licenze come parte dell'aggiornamento ai football v.4.0 a metà settembre effettueremo una manutenzione su larga scala alcuni giocatori standard in di football 2024 avranno la loro foto aggiornata questo cosa ci dice che se noi come visto qualche tempo fa la data più plausibile di uscita il 12 settembre magari al 12 settembre perché il gioco dei rigori è stato come dire posticipato fino all'11 settembre è possibile che il 12 settembre chissà qualche giorno una settimana non si sa ci sarà un momento questa manutenzione ripeto potrebbe essere solo una giornata due magari fino a lunedì magari fino a comunque io vi posso dire che secondo me quello che è certo è che il 12 settembre ci sarà questa manutenzione quanto durerà non lo so io dico dal da un giorno mezza giornata più lunga del solito ovviamente a una settimana ma penso di no forse forse inizierà il lunedì successivo oppure il giovedì successivo e quindi il 19 settembre io la vedo così al massimo però ripeto potrebbe essere anche solo una mezza giornata in più che il gioco riparta il 12 settembre alle 4 del pomeriggio per dire comunque ci sarà questa manutenzione su larga scala e siccome il gioco dei rigori l'hanno posticipato fino all'11 settembre è possibile è possibile che che comunque sarà quella la data in cui avverrà la manutenzione quanto durerà la manutenzione lo vedremo ripeto dalla mezza giornata a una settimana secondo me oppure una settimana e tanto però non si sa mai con konami non si sa mai e quindi mettiamo queste date minime mezza giornata massimo sei giorni cioè il giovedì successivo il gioco partirà al massimo proprio massimo e infine ragazzi anche questo abbiamo ricevuto feedback autenti afferma che vengono abbinati avversari di alto livello nei football league in seguito al nostro recente aggiornamento al processo di matchmaking dopo aver monitorato la frequenza di abbinamenti tra utenti in valutazioni verso nella fase 10 insieme ai risultati di questi abbinamenti abbiamo deciso di modificare il processo di matchmaking nella fase 11 adotteremo lo stesso processo utilizzato nella fase 9 continueremo a lavorare il funino un processo di matchmaking e è qua per la football league ci auguriamo che non ti erai divertirsi in football 2024 e questo devo dirvi ragazzi che a me questa nella fase 10 questo tipo di matchmaking mi ha è stato uno degli elementi onesta per onestà intellettuale lo devo dire che mi ha aiutato arrivare in divisione 1 perché sono stato abbinato a tantissimi giocatori di divisione 3 e molti di più dei precedenti ho incontrato pochissimi divisione 1 e quindi questo nuovo tipo di matchmaking mi ha sicuramente favorito e quindi adesso dalla fase 11 invece si tornerà al vecchio vecchio modo e questo è un elemento diciamo che per chi in questa fase è arrivato in divisione 1 e normalmente non ci arrivava come il sottoscritto ci ha favorito questo era il 4 luglio era presente un problema in cui matchmaking chiedeva molto tempo della divisione 3 o superiore del campionato di football pertanto durante la montezione aderne sono stati apportati dei miglioramenti a dare priorità alle partite con un avversario nelle visioni più vicine e chiaramente chi sta in divisione 2 ha molti più molta più possibilità di capitare con quelli di divisione 3 perché quelle divisione 1 sono meno e quindi con questo nuovo sistema era più facile che capitassero avversari di divisione 3 e quelli di divisione 3 non erano affatto contenti noi di divisione 2 invece molto e parecchio comunque ecco questo è un po quello che può succedere i cambiamenti nel gioco vanno a incidere poi sulle proprie performance a seconda di dove si è noi tipici giocatori di divisione 2 abbiamo avuto un vantaggio indubbiamente da questo cambiamento e adesso questo vantaggio se ne va però così è e così è se vi pare ragazzi per il momento è tutto ci aggiorniamo a server aperti fatemi sapere cosa ne pensate di questo assaggio di season 8 fatemi sapere cosa ne pensate il cambio di nome fatemi sapere cosa ne pensate di tutte le novità ufficiali rilasciate da konami per il football v 4.0.0 ciao